Buongiorno, sono Cristian Spinazzè, responsabile vendita Italia per Polyglas. Oggi siamo qui con la Simp per festeggiare i 20 anni della fondazione e in tal occasione abbiamo presentato i nostri prodotti, i nostri pacchetti certificati Buro Veritas Italia. È una novità che va nella direzione della specializzazione sia nell'ambito della produzione, della progettazione e dell'imprendiziazione e quindi poi della stesura dei nostri sistemi. Questa è un'occasione importante vista la notevole presenza di addetti al settore e di una grande professionalità messa in campo oggi qui a Verona. Nella fattispecie possiamo vedere qui alle mie spalle la presentazione dei prodotti sia manti bituminosi e manti sintetici, tutti con un pacchetto certificato da Buro Veritas Italia sotto la supervisione del nostro studio di progettazione interno Polyglas. Lo staff Polyglas, nello specifico l'assistenza tecnica, è a disposizione a 360 gradi sia per la progettazione intesa come progettazione studio tecnico che come assistenza alla committenza e alla propriety in generale.